Toglietemi tutto, ma non il mio breo. Giovedì sera per le storie di Verissimo. Robert, fermati! Una malattia terribile. Epilessia. A cui la scienza non sa dare una cura certa. Tuo figlio diventa una specie di laboratorio. Sperimentano le medicine su di lui. Io porto mio figlio da voi perché lo aiutiate e voi lo fate stare peggio. Una madre distrutta. Pronta a sfidare tutti per inseguire quell'ultima speranza. Non c'è assolutamente nessuna prova scientifica che la dieta funzioni. Per le storie di Verissimo, Meryl Streep. Un passo verso il domani. Prima TV, giovedì 20.50, Canale 5. Dopo il film incontriamo in studio Sandra Mondaini che operata di recente con successo di tumore al polmone ci racconta la sua esperienza.